E' durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di Roberto Mucciante nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto celebrata questa mattina davanti al GIP del Tribunale di Pescara Antonella Di Carlo. Il 51enne è accusato, dalla Procura di Pescara e dal PM Valentina D'Agostino, dell'omicidio aggravato di Salvatore Russo, 58 anni, inquilino del piano superiore rispetto all'appartamento di Mucciante, nella palazzina all'angolo tra Via del Circuto e Via Pian delle Mele. Come accertato dall'autopsia ieri condotta dal medico legale Cristian Dovidio, Russo è stato raggiunto da 38 coltellate sferrate con un coltello da cucina che è stato recuperato dai carabinieri accanto al corpo dell'uomo. Come detto dall'avvocato Gianluigi Amoroso, che difende Mucciante assieme alla collega Clara Di Sipio, l'uomo ha risposto alle domande dei magistrati e degli avvocati. L'indagato ha risposto a tutte le domande del giudice e ha reso l'interrogatorio. Per il momento la nostra posizione, non vi possiamo dire n'altro, è questa. Stiamo valutando eventuali istanze difensive. Mucciante avrebbe in sostanza confermato quanto già dichiarato ai carabinieri e alla polizia a caldo martedì scorso. È stato lui a costituirsi chiamando il 113 subito dopo l'omicidio avvenuto attorno alle 10 nei sotterranei della palazzina dove ci sono i garage. Una volta risalito nell'abitazione con le mani ancora insanguinate, avrebbe chiamato la polizia e poi raccontato quanto accaduto alla madre. Sarebbero stati i rumori provenienti dall'appartamento dei Russo, anche nelle ore precedenti il delitto ad esasperarlo facendo montare in lui la rabbia. Rumori che avevano provocato più di una discussione anche in passato, come confermato da diverse testimonianze raccolte dai cronisti, subito dopo l'omicidio. Mucciante dai vicini è stato descritto però come una persona schiva ma tranquilla. Qualcuno degli inquilini del palazzo ha anche accennato ad una sua possibile depressione vedendolo spesso affacciato al balcone della casa che condivide con la madre con lo sguardo fisso sulla strada. Il 51enne, ora recluso nel carcere di San Donato, era da diverso tempo disoccupato e trascorreva gran parte della giornata all'interno della sua abitazione. Intanto, domani pomeriggio, si svolgeranno i funerali di Salvatore Russo, la cui salma è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe, nel rione popolare, a pochi passi dall'ospedale alle ore 16.30. La cerimonia funebre è stata restituita.